Un ringraziamento speciale a questo posto che si chiama Air Social Park e ai ragazzi del terreno fu io e Gianluca che riconosciamo veramente ormai di due anni grazie un altro applauso a Nicola D'Amati sempre qui che c'ha la pazienza da otto anni un abbraccio gigantesco per Dario Nepoti e Marco Troni che sono più ombra e poi alla chitarra, al basso la chitarra a tua regga la camicia la camicia a pelu Giorgio Maria Contemi Alecogna Nel Cajon mio fratello Giuliano Senatore Giorgio Maria Contemi 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 E se sentite questa cosa che ho guardato, sembra un animale, una notte di locale, quando un piccolo è che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E un cartello arriva al mare con scritto, voglio la depressa, che significa soltare con parte, ti faccio la testa, io voglio il temporale, voglio un piccolo è che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ho guardato, sembra un animale, una notte di locale, voglio un piccolo è che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. E se sentite questa cosa che ti smacca il cuore, è un lento. Grazie